Spazio Salute Spazio Salute Spazio Salute Allora, cominciamo con l'abbicino e facciamo proprio nozioni anche di base affinché il nostro telespettatore anche il più inesperto di cose mediche possa comprendere. Che cos'è dunque anzitutto la pressione arteriosa? Per tradurre in termini molto comuni il concetto di ipertensione bisogna fare una premessa. Il sangue che viene distribuito ai nostri organi circola all'interno di arterie che sono strutture elastiche. La forza che il sangue esercita sulla parete di questa struttura che è l'arteria equivale alla pressione. Quindi la pressione è una forza per unità di superficie sulla parete dell'arteria dove circola il sangue. Questo sangue deve essere emesso ad ogni battito dal cuore dove il volume emesso è pari a 70 cc circa per ogni contrazione. E questa contrazione dà la pressione sistolica o meglio la pressione massima. Quando il cuore invece si rilascia nella diastole c'è la pressione minima. Perché il sangue continua a fluire anche quando il cuore non dà questo impulso, giusto? Perché il flusso nelle arterie è sempre continuo. Quindi il carico pressorio, questa forza, questa spinta del sangue sulla parete è continua con una pressione massima e una pressione minima. come abbiamo detto, sistolica, quindi l'immissione del sangue nell'arteria è la minima, la diastolica, quando il cuore si rilascia. In realtà, come potete vedere dal cartone, l'omino dice che la pressione arteriosa è la forza con la quale il cuore spinge il sangue. Perché? Perché in realtà questa forza è l'effetto della pressione che esercita l'arteria, esercita il sangue sulla parete arteriosa. Quindi è importante questo effetto sul cuore. Ora, quando parliamo di ipertensione, significa che questa pressione è più alta di quello che dovrebbe essere il valore normale. O meglio, di quelli che dovrebbero essere, e poi capiremo perché uso il plurale, i valori normali. E allora, quali sono i valori normali? Qual è il valore normale della pressione massima? E qual è il valore normale della pressione minima? I valori ottimali della pressione sono 120 per quando riguarda la massima e 80 per quando riguarda la minima. Al di sopra di questi valori siamo in un'area grigia, cioè che noi definiamo quasi di ipertensione, sino a raggiungere i livelli di 140 su 90 che definiscono al di sopra di questi livelli il quadro di ipertensione arteriosa. Al di sopra poi di questi livelli ci sono tutti, diciamo, degli stadi a seconda del livello che definisco di stadio primo, di stadio secondo e di stadio terzo. Però il messaggio che deve passare è questo, che il valore ottimale della pressione arteriosa è 120,80. Al di sotto di 120,80. Questo a prescindere dall'età, perché in passato si era diffusa la notizia, adesso ci dice lei se corrisponde in qualche modo a un carattere scientifico oppure no, che in base all'età i valori pressori normali si modificavano. Più si andava in là, più uno poteva considerare normale una pressione un po' più alta. È così? In realtà è così perché quando, diciamo, passa l'età c'è una specie di irrigidimento dell'arteria. C'è quello che si chiama lo stiffness, chiamano gli anglosassoni. Pertanto i valori pressori sono tendenzialmente alti, però noi come valori, diciamo, di riferimento dobbiamo sempre considerare 140-90, anche perché l'anziano ha una serie di comorbidità, cioè di altre patologie, che devono essere considerate sempre alla luce di questi valori pressori. Abbiamo detto che questo problema è abbastanza diffuso. Perlomeno se ne sente parlare molto spesso, si mettono in atto tentativi di prevenzione, si fanno molte trasmissioni. Perché questo? Perché è davvero molto diffusa l'ipertensione? In realtà l'ipertensione arteriosa è una condizione, non è una patologia. Ecco, quindi già chiariamo quel concetto. Questo è importante, altrimenti dovremmo avere un quarto del pianeta che è rappresentato da malati. Quindi non è una malattia, ma è una condizione. Però attenzione, è una condizione che si può associare a malattia, ma è una condizione che può diventare malattia. Pertanto va posta molta attenzione ai soggetti che hanno la pressione più alta. È pericoloso quando aumentano entrambi, cioè sia la pressione massima sia la pressione minima. È più pericoloso quando aumenta una, l'altra. Aumentano sempre insieme o possono aumentare indifferentemente, indipendentemente l'una dall'altra? Quando c'è un aumento prevalentemente dell'asi storica o della diastolica, non è, diciamo, un elemento che ci deve far discriminare o ci deve esimere dal trattamento. Sicuramente ci sono delle condizioni in cui l'asi storica, come abbiamo detto nell'anziano, dove c'è questo irrigidimento della parete che prevale, o la diastolica, quando ci sono soggetti che hanno un volume ematico più, diciamo, rappresentato. Però non si può dire che è meglio la sistolica o la diastolica. La pressione arteriosa è, indipendentemente dal valore, dalla parte, diciamo, della pressione che prevale, sempre un rischio per tutti gli organi e in primis per il cuore. Quali sono le cause dell'ipertensione arteriosa? Noi, quando facciamo, diciamo, ambulatorio, la prima cosa che ci viene chiesto dal paziente è, dottore, perché sono iperteso? In realtà, per il 95% oggi riconosciamo una, diciamo, natura cosiddetta essenziale. Cioè, non c'è una causa specifica, anche se, diciamo, che sono stati individuati dei geni correlati con alcuni, diciamo, fenotipi, cioè con alcune caratteristiche del soggetto, che tendono, quindi, ad associarsi all'ipertensione. Pertanto, questo non può rientrare nello studio laboratoristico e quindi il paziente rientra in quella che si chiama l'ipertensione essenziale. Cioè, un'ipertensione che non ha una causa specifica, ma dove in realtà ci sono diversi fattori che influiscono e tra questi, quelli ambientali, sono quelli più importanti. Le cause, le secondarie, invece, sono il 5% e sono legate a una causa e un effetto. Cioè, quando c'è un'alterazione, una disfunzione ormonale, per esempio la tiroide, oppure, per esempio, una ghiandola che si trova sul rene, che è sul rene ad elaborare alcune sostanze, ecco che c'è l'ipertensione secondaria. Però, la causa più frequente della pressione secondaria è quella dell'astenosi, del restringimento dell'arteria renale, dove la ridotta a portato, cioè il ridotto apporto ematico al rene, consente la produzione di una sostanza che si chiama proprio renina, che determina quindi un rilascio di una sostanza che si chiama angiotensinangio da vaso che va a costringere l'arteria. Pertanto, in questo caso, quando noi facciamo diagnosi di restringimento dell'arteria renale, è chiaro che sottoponiamo il paziente a procedure di rivascolarizzazione per riportare, per togliere la causa che ha determinato l'ipertensione arteriosa stessa. Ora, prima parlava però, come cause principali non secondarie, di fattori ambientali. Quali sono? Tra i fattori ambientali, diciamo, dominanti c'è lo stress. Oramai tutti siamo sottoposti a stress e ogni individuo ha quello che, diciamo, gli anglosassoni chiamano la compliance, cioè l'adattamento. Quindi, ognuno si adatta. Io ricordo sempre un collega che venne a farsi visitare, che praticamente mi disse ma io quando non sono in ambulatorio, anzi, quando sono stato in croce avevo la versione arteriosa normale e quindi questo è già un dato di fatto, cioè l'ambiente, lo stress ci mette in condizione. Poi ci sono tutta una serie di fattori, tra questi l'eccesso, diciamo, di uso di alcol, l'obesità, quindi un'alimentazione sbagliata, oppure il fumo. Cioè tutte quelle situazioni che determinano, come dire, la predisposizione a un'alterazione dell'elasticità dell'arteria. Il sale? Il sale rientra tra quelle che sono le abitudini sbagliate, anzi è una delle, diciamo, delle abitudini sbagliate dominanti nel soggetto iperteso e dove noi raccomandiamo naturalmente di assumerne in quantità, diciamo, più contenuta, come vedremo successivamente. E a questo punto la domanda che nasce da quello che dicevamo prima, l'ipertensione è una condizione, però può dare origine a delle vere e proprie patologie. Quali sono i rischi a cui va incontro un iperteso che non si cura? Un iperteso che non si cura va incontro a danni, tant'è vero che noi quando visitiamo un paziente, la prima cosa che facciamo, andiamo a vedere se ci sono dei danni d'organo, in primis il cuore e il rene. Il cuore perché, come abbiamo detto all'inizio, è la pompa, no? È il motore che deve sostenere il regime pressorio, pertanto è una sorta di scatola nera. Per esempio, arriva un paziente iperteso e dice, io non sapevo di essere iperteso, allora noi che facciamo? Con l'ecocardiogramma andiamo a vedere che cosa? Lo spessore, se c'è il spessimento, come se una persona andasse in palestra e avesse i muscoli più, diciamo, ipertrofici. La stessa cosa per il cuore, quindi per noi è una scatola nera. Secondo organo ad essere danneggiato è il rene. Il rene perché è un organo che si fa con l'aumento pressorio facilmente danneggiare sulla microcircolazione, portando a quella che si chiama la nefroangiosclerosi, quindi una, diciamo, alterazione del circolo renale che determina e può determinare nel tempo anche perdita della funzione renale. A Spazio Salute stiamo parlando di ipertensione arteriosa con il dottor Michele Antonio Principe, nefrologo in servizio presso Cassa Sollievo della Sofferenza. E ora per introdurre le metodiche diagnostiche per comprendere quando una persona ha problemi di ipertensione arteriosa, vediamo un contributo, un servizio realizzato proprio nel reparto di nefrologia di Cassa Sollievo della Sofferenza, dove è stato ascoltato il dottor Michele Vergura che ci parla sull'ecografia e sull'ecodoppler arterioso delle arterie renali che sono esami che permettono appunto proprio di evidenziare l'eventuale presenza di ipertensione arteriosa. In questo laboratorio ecografico, annesso alla struttura complessa di nefrologia, vengono eseguiti diversi esami ecografici con l'utilizzo di questo apparecchio che voi vedete e che ha in dotazione diverse sonde. Queste sonde ci permettono lo studio, ad esempio, del cuore, dei reni e dei vasi utilizzando la metodica ecografica. La metodologia è molto semplice, il paziente viene fatto mettere sul lettino in decubito su pino o prono o laterale, destro o sinistro a seconda della sua struttura fisica e del tipo particolare di patologia. L'indagine è sicura, non vi è assolutamente disagio per il paziente, quello che viene semplicemente richiesto al paziente è il suo decubito su lettino per circa 20 minuti e l'esame in effetti, in mani esperte, non dura più di questo tempo. Lo scopo finale di tutto questo studio ecografico è quello di titolare la terapia antipertensiva per il paziente e di scoprire eventuali cause di ipertensioni secondarie. Ecco, dottor Principe, solo questo è l'esame per individuare la presenza di una situazione di ipertensione arteriosa? Questo non è l'esame per individuare l'ipertensione arteriosa, è un esame che affianca e stima, come abbiamo detto prima, la presenza di un danno d'organo, perché con l'ecografia noi innanzitutto vediamo la taglia, cioè la grandezza renale, se c'è stata magari una lesione renale e poi andiamo a studiare la vascolarizzazione del reno, perché come abbiamo detto, quando c'è un restringimento dell'arterio renale ci può essere un'ipertensione secondaria. Quindi, diciamo, questo esame permette di individuare una delle possibili cause dell'ipertensione arteriosa. Per gli altri tipi di ipertensione basta soltanto che ordinariamente l'apparecchietto, lo sfigmanometro, per X tempo segni valori al di là dei 140, anzi dei 120, 80? Per la diagnosi di ipertensione bisogna fare dei rilievi pressori che possono essere fatti sia clinicamente, cioè in ambulatorio del medico, possono essere fatti a domicilio, si invita il paziente a acquistare un apparecchio automatico oppure a sottoporre il paziente a monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa. Per quanto riguarda la misurazione, diciamo, clinica, quella che si fa in ambulatorio, si fa tenendo, diciamo, avendo l'accortezza di misurare la pressione a paziente in ambiente tranquillo, seduto, facendo delle misurazioni che sono generalmente tre e facendo una media e dove naturalmente i valori pressori devono essere, come abbiamo detto, inferiori a 140, 90. Se invece al paziente noi diamo in dotazione l'apparecchio, il paziente stesso, misurerà a domicilio la pressione arteriosa e i valori dovranno essere inferiori a 135, 85, perché naturalmente a casa c'è un effetto, diciamo, ambientale più confortevole e quindi i valori si attestano su livelli più bassi. Se poi noi vogliamo vedere in realtà com'è la pressione durante le 24 ore, sottoponiamo il paziente al monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa mettendo un bracciale con una macchinetta dove questa macchinetta andrà a misurare ogni 20 minuti la pressione arteriosa e noi studieremo poi tutte le fasi con un diario diciamo che il paziente avrà segnato con tutte le sue attività e quindi faremo una media e stabiliremo se i valori corrispondono al quadro di ipertensione arteriosa e quindi faremo la diagnosi. Quindi mi pare di capire che in linea di massima è possibile arrivare ad una valutazione di quei parametri che possono individuare la presenza di un'ipertensione tranquillamente stando a casa. Come mai Casa Sollievo ha istituito un day service per questi, non possiamo dirgli pazienti perché non è una onatia, per chi ha questo problema? Giusto, ma l'ipertensione arteriosa in realtà non si fa soltanto per la diagnosi. Abbiamo detto che è una condizione, essendo una condizione va messa in follow up, cioè va messa sotto controllo e noi grazie appunto come ha detto lei a Casa Sollievo abbiamo attivato un day service attraverso il quale facciamo dei controlli e teniamo sotto controllo i pazienti ipertesi per far sì che il danno arrecato dall'ipertensione arteriosa sia contenuto e pertanto abbiamo la possibilità di monitorare l'effetto dell'ipertensione arteriosa attraverso gli esami strumentali, attraverso gli esami laboratoristici e modulando anche la terapia antipertensiva del paziente. E qual è la terapia antipertensiva? In che cosa consiste? La terapia antipertensiva la possiamo distinguere in due opzioni se vogliamo, cioè un approccio direi non farmacologico e un approccio farmacologico. L'approccio non farmacologico è il primo step che noi andiamo a utilizzare, a impiegare, quando un paziente, come dire, borderline, che magari non ha danni d'organo e che è in sovrappeso e che comunque non ha uno stile di vita adeguato, raccomandiamo al paziente stesso questo suggerimento, come dire, della terapia non farmacologica per far sì che i fattori, come abbiamo detto, ambientali, che giustamente come ha asserito lei possono essere una causa, possono venire meno. Il momento in cui noi ci accertiamo che questo non funziona perché il paziente probabilmente è iperteso, perché probabilmente c'è una familiarità, perché il paziente è, diciamo, scritto nel suo codice genetico che deve andare incontro a questi valori di pressione più alto, impieghiamo la terapia farmacologica che si avvale di diverse classi farmaceutiche, farmacologiche. Perché? Perché ogni farmaco ha un'attività. Possiamo cominciare dal diuretico, che è quel farmaco che scarica, che toglie il volume dal compartimento vascolare e quindi riduce la pressione, oppure farmaci che direttamente o indirettamente vanno a vasodilatare le arterie del soggetto e quindi sono ipotensivanti. Talvolta questi farmaci si usano o singolarmente oppure in associazione. Ci sono pazienti che sono, diciamo, resistenti e quindi hanno bisogno di associazioni. Oggi, per fortuna, abbiamo delle pillole che sono un'associazione di più molecole e quindi il paziente più facilmente ha, diciamo, un vantaggio, quindi, come dire, ha una compliance maggiore ad assumere il farmaco. Quella terapia non farmacologica di cui parlava può coincidere anche con una serie di consigli per prevenire l'ipertensione, cioè come quei consigli per coloro che, se non hanno fattori, diciamo, genetici, possono evitare di entrare in questa condizione? Certamente sì, certamente sì. Ed è importante questo. Dobbiamo ricordare che l'approccio non farmacologico resterà sempre una terapia che il paziente, anche quando assumerà il farmaco, deve assumere perché fa parte della, diciamo, della terapia dell'ipertensione perché attraverso questo approccio noi abbiamo la possibilità di ridurre i rischi cardiovascolari. E quindi, visto che ne abbiamo solo accennato, lo stress, per quanto è possibile nella vita di oggi, bisogna evitarlo. A tavola, oltre al sale, bisogna eliminare tutti quei cibi che possono dare obesità e cos'altro? A tavola, innanzitutto, bisogna cercare di contenere l'apporto, diciamo, calorico in linea di massima. È importante comunque assumere un quantitativo di sale che si attesta a 5-6 grammi, non eccedere nell'alcol e aumentare soprattutto il consumo di fibre, quindi frutta e verdure. E questo è per quanto riguarda, diciamo, l'alimentazione che deve essere uno stile proprio di vita perché la tavola non deve essere una gratificazione momentanea, ma deve essere una gratificazione anche per la salute. Sapere che mangio bene deve servire anche a gratificare la possibilità di stare bene. Inoltre, assieme, diciamo, all'alimentazione bisogna assolutamente avere uno stile di vita fatto da attività fisica. Quindi è importante fare attività fisica e noi consigliamo di fare camminate per 30 minuti 5 volte alla settimana. E con questi consigli concludiamo anche lo spazio salute di questa settimana ringraziando il dottor Principe per averci illustrato cause e possibili rimedi dell'ipertensione arteriosa e voi per averci seguito anche oggi.